È tempo di mare e vacanze, ma nelle cartolerie della provincia è già disponibile il kit scuola 2010-2011. Tutto è necessario per affrontare il primo giorno di scuola a meno di 20 euro. Un diario, quattro guaderni, matite, penne, gomme, evidenziatore e una veligetta. In più anche la possibilità di scegliere fra una pendrive, una calcolatrice scientifica tascabile e due squadre, oppure un compasso da cinque pezzi con una riga da 60 centimetri. Dal 29 luglio, fine esaurimento scorte, nelle cartolerie e nei punti vendita Oshank, Carfour e Panorama che aderiscono all'iniziativa, si può acquistare un kit di prodotti non griffati ma di qualità a 19,90 euro. Lo stesso prezzo dell'anno scorso, precisa Paola Rita Stella, assessore alla scuola. La provincia di Roma, in questo momento difficile, anche di crisi economica, vuol dare un aiuto alle famiglie italiane che tanto devono investire per l'educazione e il diritto allo studio dei loro figli. In aggiunta quest'anno, le attività commerciali che hanno aderito alla Family Card proporranno un ulteriore sconto del 10% su questo prezzo già concordato. I punti vendita che aderiscono all'iniziativa sono facilmente riconoscibili perché espongono la locandina Kit Scuola 2010-2011. L'elenco completo è comunque disponibile sul sito della provincia. Grazie a tutti.